Sono Anto Giulio Facenti, il CEO Fonder di Imatex, Historique Italian Manufacture Textile Excellence. La start-up appunto è stata selezionata dal progetto Prisma che si occupa di fashion tech o meglio di agevolare con una custom experience e una virtual 30 showroom l'acquisto per il cliente finale di capi di abbigliamento risolvendo il problema della taglia e la costruzione di un avatar sul proprio profilo extra dedicato. Tutto questo sarà interagito sulla supply chain delle aziende manifatturiere che producono la linea. Imatex ha raggiunto degli accordi con dei marchi storici quali Regina Srecker e Mabro per l'internazionalizzazione e distribuzione delle gabine in negozio nei department store tramite tool o plugin con le piattaforme e-commerce e marketplace e anche lo sviluppo attraverso la scannerizzazione da casa con tv smart, cellulari e nuove tecnologie. Abbiamo deciso di partecipare con grande soddisfazione al progetto Prisma per riuscire a mettere in atto quanto da noi impostato in una maniera molto più veloce e impattante sulla filiera tessi di abbigliamento contando sulla incubazione dei partner aderenti al progetto Prisma. Attualmente stiamo in lancio con il marchio Regina Srecker su vari mercati internazionali con partner industriali e partner distributivi di primissimo livello. Il team composto da Imatex è indubbiamente di esperienza. Sono personaggi nelle varie vesti dal CTO, responsabile commerciale stile e modelleria, derivanti dalle più grandi aziende del luxury Made in Italy. Grazie! Grazie!